E poi con Sescovic a due minuti dal termine, guardate l'allungazione sulla fascia, il cross per la testa di Sescovic che ha messo a segno la sua prima doppietta. Da Ascoli ho concluso, la mia relazione sulla fascia, il cross per la testa di Sescovic che ha messo a segno la sua prima doppietta.